In Abruzzo si guadagna poco, certamente meno che al nord e nel centro Italia, poco di più che nelle regioni del Mezzogiorno. A rivelarlo è uno studio della CGA di Mestre, che certifica una situazione di profondo squilibrio retributivo nel paese. Si oscilla infatti tra gli stipendi medi della Lombardia, pari a 28.354 euro annui, e compensi che in Calabria in media montano quasi alla metà, non superando quota 14.960 euro l'anno. L'Abruzzo, tra i due poli, si colloca in una posizione più vicina a quella della Calabria che a quella della Lombardia. Si piazza infatti al tredicesimo posto su 20 regioni, con retribuzioni medie di 18.772 euro annui, ovvero meno di 81 euro al giorno. Numeri ben lontani anche dalla retribuzione media nazionale, che è di 22.839 euro annui. Esaminando più nel dettaglio il panorama abruzzese, la provincia che nella regione può vantare gli stipendi più alti è quella di Chieti, 55esima su 103 esaminate, con retribuzioni medie di 19.837 euro l'anno. Seguono l'Aquila, 62esima con 18.790 euro e Pescara, 64esima con 18.656 euro. A passarsela peggio sono i lavoratori della provincia di Teramo, con stipendi che in media non superano i 17.463 euro annui. Un dato che vale il 75esimo posto e che colloca il comprensorio teramano a distanze siderali dalla locomotiva del paese, ovvero la provincia di Milano, dove si guadagnano in media 32.472 euro l'anno, ma anche dalla maglia nera Vibo Valencia, dove gli stipendi annui sono fermi in media a 12.923 euro. I gap retributivi, secondo la CGA, sono influenzati principalmente dalle differenze sul piano della produttività, molto più elevata al nord che nel mezzogiorno. Pesano però anche altri fattori. Ad esempio è un dato incontrovertibile che multinazionali, utilities, imprese medio-grandi, società finanziarie e assicurative bancarie, ovvero quelle che tendenzialmente riconoscono i propri dipendenti stipendi più alti della media, sono ubicate prevalentemente nelle aree metropolitane dell'Italia settentrionale. Inoltre è innegabile che il lavoro irregolare sia ancora molto diffuso nelle regioni del mezzogiorno e ciò provoca da sempre un abbassamento dei salari contrattualizzati, soprattutto nei settori dell'agricoltura, del commercio e dei servizi alla persona.